Quindi vi stavo dicendo che Rossi da un lato pretende di fondare attraverso il suo metodo una sorta di architettura scientifica, un processo di progettazione scientifica, in realtà poi da sotto c'è un grande atteggiamento poetico, che poi è quello che lo salva, perché se noi avessimo dovuto seguire la sua progettazione scientifica, come hanno fatto molti dei suoi epigoni, che non hanno capito una mazza della complessità poetica che lui albergava dentro di sé, molto riferita alla pittura metafisica di un De Chirico, riferita alle periferie di un Sironi, quindi riferita a delle cose che appartenevano alla sua infanzia, alla sua formazione e che diventavano atto poetico, ci sono dei suoi progetti bellissimi, mentre invece quando pretende di essere scienza dell'architettura produce dei mostri, come tutti i suoi epigoni hanno fatto, delle schifezze immonde che hanno inguaiato le nostre periferie. Quindi torniamo al nostro discorso, il nostro discorso era che non è vero che esiste un solo metodo per la progettazione, questi due esempi che vi ho detto che sono assolutamente contrapposti, nascono come movimenti contrapposti, Rossi nasce come movimento contrapposto volontariamente, deliberatamente al funzionalismo. Lui antepone la questione della tipologia per non parlare di funzioni, lui dice quando io guardo il palazzo della ragione di Padova, quando sto a guardare un palazzo rinascimentale, pensate a Palazzo Gravina a Napoli o a altri palazzi rinascimentali, oggi la funzione che si ha dentro è completamente diversa da quella che si aveva quando questi organismi sono nati, prima erano delle residenze dei signori, oggi invece possono essere una facoltà, una facoltà universitaria, per esempio la facoltà di architettura era ospitata in Palazzo Gravina a Napoli, prima ancora Palazzo Gravina era un ufficio postale, quello devono poco. Quindi lui dice l'organizzazione funzionale non c'entra niente con l'architettura, ha ragione non ha ragione, non lo so. Se pensate per esempio a Renzo Piano, che cosa c'è sotto Renzo Piano? Non c'è una derivazione postmodernista della macchina di cui parla Le Corbusier, delle unità di abitazione di cui parla Le Corbusier, non è un transatlantico decomposto e ricomposto in un altro modo. Allora qual è il discorso che io svolgo e voglio comunicarvi? È che non esiste un solo metodo assoluto di progettazione, ma esistono più metodi che possono essere sia nella stessa epoca storica, sia di epoche storiche diverse, perché le epoche storiche diverse comportano, e voi questo lo sapete meglio di me, atteggiamenti progettuali, atteggiamenti stilistici, e per stile poi vedremo che cosa intendiamo, completamente diversi. In un modo si progettava nel gotico, in un altro modo si progetta nel rinascimento, e il rinascimento si oppone al gotico che definisce tale gotico per disprezzo, i goti sono i barbari, quindi quello stile che veniva oltre al pera barbarico, loro si rifanno alla classicità, quindi vedete che all'interno dei progetti intervengono spessissime, anzi sempre, componenti culturali, quindi componenti legati alla storia, legati alla socialità, legati alla complessità della vita nella quale l'architettura nasce ed è specchio, ma è anche suggerimento per altre forme di vita, quindi è un discorso estremamente complesso, articolato e affascinante. Come vi dovete muovere voi adesso per fare il progettello del museo che dovete fare? Facciamo così, io vi suggerisco di seguire un metodo spurio, un metodo che pizzica un poco di qua, un poco di là, pizzica un poco dal progetto funzionalista, un poco dal progetto parzializzato per attività del quale non abbiamo proprio parlato e ne parleremo, un poco dal progetto tipologico, un poco dal progetto inistile e un poco dal progetto semantico. Io queste sono le cose che non vi ho parlato del progetto semantico, non vi ho parlato per esempio delle letture strutturaliste dell'architettura, il mio maestro, e spero che lui non si offenda di essere considerato il mio maestro perché sarei un indegno allievo suo, il mio maestro Renato De Fusco, maestro di storia dell'architettura, tra i più prestigiosi che l'Italia abbia prodotto, secondo il mio parere, e non solo secondo il mio parere, in quest'epoca contemporanea, Renato De Fusco ha dato un'interpretazione direi magistrale della storia dell'architettura e soprattutto dei metodi di lettura della storia dell'architettura e quindi della storiografia fondandosi sui metodi dello strutturalismo e ha ragione perché il concetto di struttura è poi un metalinguaggio interpretativo, appartiene al metalinguaggio interpretativo delle architetture di tutte le epoche, una lettura strutturalista, una descrizione strutturalista è quanto di più corretto si possa fare, anche se di più asettico, ma proprio per questo più corretto dell'architettura. Noi però non possiamo adoperare un metodo strutturalista, perlomeno è troppo vago per noi, dobbiamo già avere delle strutture preconfezionate, almeno dal punto di vista metodologico dell'esercitazione che voi state facendo. In parole voi, tutto il discorso che vi ho fatto, dove vuole arrivare, per progettare il vostro museo, che dovete fare? Scegliete una figura, fate come ha fatto Wright, Wright quando ha fatto il Guggenheim, che ha fatto? C'è un'esercitazione molto bellina che hanno fatto alcuni vostri colleghi, che io sto rielaborando sotto forma di presentazione PowerPoint, che vi farò vedere la lezione, che poi farò diventare un PDF, ma questa roba pesa un accidente, quindi metterla su web bisogna fare una serie di manovre, ci vuole un po' di tempo, abbiate pazienza e vi darò anche questo. Come ha fatto Wright? Wright sicuramente è partito da un preconcetto, preconcetto, c'è un concetto che viene prima. Che cos'è questo preconcetto? La spirale. Wright si è piazzata in capo questa idea della spirale, dell'imbuto. Non si sa bene perché, non lo sappiamo, non ce ne importa, perché Wright ha avuto un suo motivo per farlo, poetico, personale, di ricordo, che ne sappiamo? Ha pensato a qualche animale, a una conchiglia, avrà pensato probabilmente al guscio di una conchiglia, e sì, la spirale appartiene alla natura, ai cusci delle conchiglie, insomma, a alcune forme vegetali, alcune forme animali semplici. Avrà preso quest'idea, gli è sembrata, diciamo, intelligente, per costruire che cosa? Uno spazio nel quale si debba percorrere, da sotto a sopra, da sopra a sotto. Quindi invece di metterlo in un cilindro, ha svasato il cilindro, l'ha aperto a forma di imbuto e ha fatto l'ultimo percorso più ampio del percorso che sta atteso. Un'idea semplice, ma come tutte le idee, semplice, geniale, bellissima. È forse un'idea tra le più belle che si abbiano a disposizione di un museo moderno. Il Gugnheim Museum di New York è sicuramente un bellissimo museo, quindi andatevelo a vedere. Vediamo di capire il suo metodo. Ha pigliato quest'idea, preconcetta, e ha detto che intorno a quest'idea io lavoro questo concetto. Potremmo, volendo utilizzare una teorizzazione come quella di Aldo Rossi, una tipologia, no? È una tipologia spaziale quella di organizzare un percorso che se ne sale a spirale e si allarga. Bella l'idea. Come Le Corbusier organizza con la schifezza di Vilsauat, scusatemi per carità, non è una schifezza, insomma con la scatola di scarpe di Vilsauat, che è una scatola di scarpe, sospesa su certi peruzzuli, piedini, la organizza però con la promenada architettonica, cioè con questa passeggiata all'interno che è questa rampa che arriva fino al giardino pensile che sta al piano di sopra. Ecco, partono da un'idea. Allora voi dovete partire da un'idea, cioè da quella che Renato De Fusco, nostro maestro, anche vostro, perché vi invito a leggere le cose che ha scritto Renato De Fusco, in particolare proprio codice dell'architettura, per un'architettura semiologica e così via, poi vi farò una bibliografia su Renato. Allora, trovate una figura, inventatevi una figura, scavate dentro di voi una figura planimetrica, spaziale, intorno alla quale volete organizzare il vostro concetto di museo. È un poco un artificio, ma può essere utile. Schiaffate questa figura sulla pianta, disegnatela. Come è fatto? C'è un asse di simmetria, c'è una a due e come sono organizzate le... Per esempio, potremmo organizzare il museo come un albero. Allora un albero è una struttura che sale e si biforca. Quindi potremmo organizzare nello spazio, concettualmente, il nostro museo sotto forma di una struttura che sale e biforca in tanti rami. Ci vediamo al prossimo modulo.